Ben trovati, nuova edizione del nostro Tg della Domenica. La libertà non è fare quello che si vuole, ma libertà di fare il bene e farlo liberamente. Papa Francesco, in Piazza San Pietro, ha sottolineato l'importanza dello Spirito Santo come impegno a crescere nella verità. Ascoltiamo un breve stralcio delle sue parole. Pretendere di rinchiudere lo Spirito Santo in concetti, definizioni, tessi o trattati, come ha tentato a fare a volte il razionalismo moderno, significa perderlo, vanificarlo, ridurlo allo Spirito umano, allo Spirito puramente umano, no? È uno Spirito semplice. E dove c'è lo Spirito del Signore c'è libertà, dice Lui. Una persona libera, un cristiano libero è quello che ha lo Spirito del Signore. Questa è una libertà tutta speciale, assai diversa da ciò che comomente si intende. Non è libertà di fare quello che si vuole, ma libertà di fare liberalmente quello che Dio vuole. Non libertà di fare il bene o il male, ma libertà di fare il bene e farlo liberamente. Cioè, per attrazione, non per costrizione. In altre parole, libertà dei figli, non di schiavi. Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. La libertà che ci dà Gesù. Chiediamo a Gesù di fare di noi, mediante il suo Santo Spirito, delle uomini e delle donne veramente liberi. Liberi per servire nell'amore e nella gioia. Nella prospettiva del Giubileo 2025 serve una moratoria del debito estero dai paesi più poveri. È stato il monito di Papa Francesco nel corso dell'udienza con i partecipanti al seminario Affrontare la crisi del debito nel sud del mondo, promosso dalla Pontificia Accademia delle Scienze. Damiana Dorotea Sgaramella. In occasione del Giubileo 2025 è necessaria una sospensione del debito estero dei paesi più poveri. È il monito lanciato da Papa Francesco che mercoledì scorso, prima dell'udienza generale, ha incontrato i partecipanti al seminario Affrontare le crisi del debito nel sud del mondo, promosso dalla Pontificia Accademia delle Scienze. Per il Santo Padre, dopo la globalizzazione malgestita, la pandemia e le guerre, ci troviamo di fronte a una crisi del debito che colpisce soprattutto i paesi del sud del mondo, generando miseria e angoscia e privando milioni di persone della possibilità di un futuro degno. È necessaria quindi la creazione di un meccanismo multinazionale, ha continuato, basato sulla solidarietà e sull'armonia tra i popoli che tenga conto del significato globale del problema e delle sue implicazioni economiche, finanziarie e sociali. Il debito ecologico e quello estero sono per Bergoglio due facce della stessa medaglia che ipotecano il futuro. Poi ha ricordato che condonare i debiti nell'anno giubilare era già una tradizione del popolo ebraico. Da qui il suo monito ad aprire cuore e mente per sciogliere i nodi di quei legami che soffocano il presente, senza dimenticare che noi siamo solo custodi e amministratori. Nessuno può abitare la nostra casa comune con la coscienza tranquilla, sapendo di essere circondato da moltitudini di fratelli e sorelle affamati, immersi nell'esclusione sociale e nella vulnerabilità, ha detto il Papa. Permettere che ciò accada è un peccato umano e anche se uno non ha fede è un peccato sociale. Nel messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2024, Papa Francesco ricorda che Dio cammina con loro nei viaggi che affrontano in cerca di futuro e incontrarli è un'occasione carica di salvezza. Alba Di Palo. Dio cammina con il suo popolo è il tema scelto da Papa Francesco per la giornata del migrante e del rifugiato 2024 che sarà celebrata il prossimo 29 settembre. È possibile vedere nei migranti del nostro tempo, come in quelli di ogni epoca, un'immagine viva del popolo di Dio in cammino verso la patria eterna, scrive Bergoglio, secondo cui l'incontro con il migrante, come con ogni fratello o sorella che è nel bisogno, è anche incontro con Cristo. E' lui che bussa alla nostra porta affamato, assetato, forestiero, nudo, malato, carcerato, chiedendo di essere incontrato e assistito. Secondo il pontefice ogni incontro lungo il cammino rappresenta un'occasione carica di salvezza, perché nella sorella o nel fratello bisognoso del nostro aiuto è presente Gesù. In questo senso i poveri ci salvano, annota il Papa, perché ci permettono di incontrare il volto del Signore. I migranti, ricorda, trovano molti ostacoli nel loro cammino, sono provati dalla sete e dalla fame, sono sfiniti dalle fatiche e dalle malattie e sono tentati dalla disperazione. E molti di loro fanno esperienza del Dio compagno di viaggio, guida e ancora di salvezza, continua Francesco. Dio si identifica con gli uomini e con le donne in cammino attraverso la storia, in particolare con gli ultimi, i poveri, gli emarginati, come prolungando il mistero dell'incarnazione. La richiesta del Santo Padre per la giornata del migrante e del rifugiato è un invito alla preghiera per tutti coloro che hanno dovuto abbandonare la loro terra in cerca di condizioni di vita degne. Sentiamoci in cammino insieme a loro, facciamo sinodo insieme e affidiamoli tutti all'intercessione della Beata Vergine Maria. Segno di sicura speranza e di consolazione conclude nel cammino del popolo fedele di Dio. Papa Francesco ha incontrato i partecipanti al convegno interreligioso organizzato dal Movimento dei Focolari e ha sottolineato l'importanza del cammino iniziato da Chiara Lubic, fondatrice appunto dei Focolarini, con persone di religioni non cristiane che condividono la spiritualità dell'unità. Damiana Dorotea Sganabella. Il dialogo interreligioso è una condizione necessaria per la pace nel mondo e pertanto è un dovere per i cristiani come per le altre comunità religiose, perciò vi incoraggio ad andare avanti sempre aperti. Sono state le parole pronunciate da Papa Francesco rivolte ai componenti del Movimento dei Focolari, ricevuti in udienza insieme ai partecipanti al convegno interreligioso promosso dallo stesso Movimento. «Prego per la tua patria, prego tanto per la tua patria che soffre in questo momento», ha detto Bergoglio, rivolgendosi alla presidente Margaret Kassam, nata ad Haifa in Israele da famiglia palestinese. Poi il Santo Padre ha ringraziato per la perseveranza con cui l'opera di Maria porta avanti il cammino iniziato da Chiara Lubic, con persone di religioni non cristiane che condividono la spiritualità dell'unità. «È stato un cammino rivoluzionario questo, che fa tanto bene alla Chiesa», ha sottolineato il Pontefice, «è un'esperienza animata dallo Spirito Santo, radicata nel cuore di Cristo, nella sua sete di amore, di comunione e di fraternità. Un dialogo che si è sviluppato fino ad ora come dimostra la presenza dei Focolari oggi. La vostra testimonianza è motivo di gioia e di consolazione, specialmente in questo tempo di conflitti nei quali la religione viene spesso strumentalizzata per alimentare lo scontro», ha concluso Bergoglio. Il decreto sulla cosiddetta autonomia differenziata e sul pericolo di non garantire gli stessi standard dei servizi su tutto il territorio nazionale è al centro delle preoccupazioni dei vescovi italiani. Abbiamo ascoltato Monsignor Giuseppe Vatturi, segretario generale dell'ACCI. Francesco Rossi. Il Parlamento italiano è chiamato ad esprimersi sul provvedimento di legge cosiddetto dell'autonomia differenziata, una norma che rischia di dividere il Paese in 20 regioni, con servizi diversi l'una dall'altra. Anche i vescovi italiani hanno voluto far sentire la propria voce. In una recentissima nota del Consiglio Episcopale Permanente è stata ribadita anzitutto l'idea centrale che ciò che costituisce l'Italia come nazione è un vincolo di solidarietà, che deve essere capace di legare i più ricchi con i più poveri, quelli in ritardo, con quelli che guardano più alle tecnologie o al futuro che viene. Ecco, il futuro della nostra nazione deve essere un futuro di solidarietà perché assieme possiamo parlare all'Europa, insieme possiamo costruire un mondo migliore. E quindi guardiamo con tanta preoccupazione, l'abbiamo detto in modo espresso, quei progetti in questo momento in discussione che facendo pur perno su alcuni momenti della nostra Costituzione tendono a indebolire questo vincolo di solidarietà e a frammentare i servizi alle persone, pensiamo, quelle più elementari, in base alle capacità di ciascuna comunità regionale. Una posizione che non cambia, nonostante qualche reazione scomposta da parte degli stessi promotori dell'iniziativa legislativa. Noi ragioniamo in termini lunghi e profondi e quindi con tanta serenità continueremo a ribadire ciò che è il bene della nostra società, il tema della solidarietà, come quello della tutela della vita, la promozione della famiglia e tutti gli altri temi che ci stanno a cuore sapendo collaborare lealmente con tutte le istituzioni per il bene dell'uomo e per il progresso della nostra comunità. I Vescovi Pugliesi si sono confrontati su diversi temi nel corso di una riunione ospitata con Versano. Gli argomenti affrontati sono stati la celebrazione del matrimonio, l'importanza dell'insegnamento della religione e la formazione. Sentiamo. Un documento che intende essere una guida per le diocesi pugliesi nella celebrazione del sacramento del matrimonio, una riunione in cui è stata ribadita l'importanza della formazione scolastica e diocesana. Sono stati gli argomenti al centro della riunione della conferenza episcopale pugliese ospitata con Versano in provincia di Bari. I Vescovi Pugliesi hanno messo appunto una nota relativa alla celebrazione del matrimonio. Il documento, a cura della Commissione regionale per la liturgia, approfondisce il sacramento e contiene suggerimenti utili per i percorsi di preparazione al matrimonio nelle comunità ecclesiali. Nel corso del confronto è stato affrontato anche l'insegnamento della religione cattolica dopo che il Ministero dell'Istruzione ha di recente aperto la procedura concursuale riservata agli insegnanti. Per i Vescovi è fondamentale mantenere alta la professionalità nei docenti vigilando sulla qualità della loro formazione per dare ulteriore significato al servizio reso all'interno del mondo della scuola, si legge nel comunicato diffuso dalla CEP che ritiene non opportuna la partecipazione dei sacerdoti al concorso. Sempre in tema di formazione, il Dipartimento di Teologia Pratica della Facoltà Teologica Pugliese ha presentato un corso biennale di alta formazione per la promozione e l'esercizio dei ministeri dei laici dal titolo Promotori della Corresponsabilità nella Chiesa riservato ai responsabili diocesani e all'equip che coordinano la formazione e l'accompagnamento dei ministeri dei laici sia istituiti che de facto nelle chiese particolari. Sarà infine dedicato a parrocchie, cultura e cittadinanza la terza tappa del percorso di formazione proposta alle chiese di Puglia che si svolgerà a Santa Cesaria Terme in provincia di Lecce dal 22 al 26 luglio prossimi. A Cerignola è stato inaugurato il nuovo oratorio della parrocchia di Sant'Antonio da Padova la celebrazione è stata presieduta da Monsignor Giuseppe Baturi arcivescovo metropolita di Cagliari e segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana Francesco Rossi Il tutto premiglia viene generato dalla generosità di tanti fedeli e contribuenti cittadini che danno fiducia alla Chiesa per le opere che compie per la sua capacità di star vicino alla popolazione aiutandola a pregare ma anche ad affrontare i temi della vita ad andare avanti a stringere amicizia ad avere sostegno e poi le esperienze di carità come le esperienze pastorali più importanti. Con queste parole il segretario generale della CEI Monsignor Giuseppe Baturi ha inaugurato l'oratorio parrocchiale con i locali annessi alla chiesa di Sant'Antonio da Padova a Cerignola una struttura realizzata appunto con i fondi dell'Otto per Mille. Oggi c'è un'opera per cui sono venuto davvero con tanto piacere che dà tanta speranza è un'opera educativa che guarda i nostri giovani e come ci insegnava Don Bosco l'educazione è una forma di amore ma come dice Papa Francesco è un motivo di speranza. Siamo davvero contenti che l'Otto per Mille possa generare in una comunità come questa un'opera di speranza perché educare i giovani accoglierli e significa guardare davvero al futuro. L'inaugurazione del nuovo oratorio è certamente un momento di festa per tutta la comunità di Cerignola. È un giorno di festa per la comunità di Cerignola e per questa comunità in particolare che è una bella comunità una comunità in cui curano veramente l'educazione e la formazione di un bel gruppo di ragazzi e la nuova struttura sicuramente aiuterà anche in questo. Non l'avremmo mai potuto realizzare noi abbiamo aiutato anche come diocesi si capisce la parrocchia ha fatto la sua parte qualche benefattore ma non avremmo mai potuto realizzare ciò che è avvenuto. Allora questa è la gioia di dire sì attraverso la CEI ci è arrivato l'otto per mille ma in realtà proviene da tutti coloro che hanno contribuito con la loro firma e siamo riconoscenti per questo. I fedeli di Andria hanno accolto la reliquia delle stimate di San Francesco d'Assisi nella parrocchia Santa Maria Vetere il cammino segue i passi del Santo Patrono d'Italia in occasione dell'ottavo centenario della stigmatizzazione avvenuta avvenuta a Laverna il 17 settembre 1224 Antonella Filannino Un pellegrinaggio per raggiungere i luoghi di fede e di cura Andria ha accolto nella parrocchia Santa Maria Vetere la reliquia delle stimate di San Francesco d'Assisi insieme alla diocesi di San Marino Monte Feltro e ai frati del santuario di Laverna vicino ad Arezzo l'occasione l'ottavo centenario delle stimate del Santo Patrono d'Italia unica nella storia la sua stigmatizzazione avvenuta il 17 settembre del 1224 poiché i frammenti del sangue custoditi nel reliquiario provengono direttamente dal costato Le stimate di San Francesco non sono uguali agli stigmatizzati di tutta la storia cioè San Francesco non ha avuto i buchi i fori nelle mani e nei piedi ma nella sua carne gli sono cresciuti i chiodi di Cristo è quella cosa che certifica che l'uomo che non solo l'uomo vuole rappresentare Dio ma è Dio che si rappresenta in un uomo quindi l'icona che Gesù ha voluto imprimere in Francesco è proprio la sua immagine la sua somiglianza originariamente la benda in lino intrisa del sangue di San Francesco era contenuta in un reliquiario d'argento è stata traslata dopo il miracolo del 1901 che ravvivò il colore del sangue rendendolo di nuovo vivido da quel momento non ha più mutato il suo colore a quella traccia di San Francesco volgono lo sguardo i fedeli di Andria lo accogliamo in questo luogo francescano molto caro per la città di Andria perché qui i frati dimorano dal 1400 e grazie a Dio ancora oggi vive una piccola fraternità francescana che oggi si onora di aver accolto questa reliquia dopo la parrocchia Santa Maria Vetere la reliquia ha raggiunto la parrocchia Sacre Stimmate un cammino fatto di preghiera e di raccoglimento la preghiera che affidiamo a Francesco D'Assisi è quella di vicinanza alle tante situazioni di ferite che oggi l'uomo, la società, le comunità vivono infatti la reliquia non sosterrà soltanto nella nostra comunità parrocchiale ma raggiungerà diversi luoghi come l'ospedale civile la casa di riposo qui a Tegua a questa parrocchia di Santa Maria Vetere visiterà la comunità San Vittore con il progetto senza sbarre della nostra chiesa diocesana ecco è veramente un momento di grande vicinanza a quello che vogliamo vivere Questa settimana la celebrazione eucaristica per il venticinquesimo anniversario di ordinazione sacerdotale del parroco delle Sacre Stimmate di Andria Don Francesco Piciocco che abbiamo appena visto nel servizio precedente ma ascoltiamo le interviste Che venticinque anni sono stati? Sono stati venticinque anni di bellezza venticinque anni intensi venticinque anni vissuti sempre guardando a Cristo che mi ha chiamato, mi ha scelto e mi ha condotto per mano nei vari passaggi della mia vita nelle varie comunità dove ho prestato servizio dove il Signore mi ha chiamato attraverso i superiori a svolgere vari compiti, ministeri sono stati veramente anni di grande gioia spirituale e umana Quali ricordi porti con te? Ma i ricordi sono quelli dei volti delle persone che ho incontrato dai più piccoli ai più grandi da chi è vicino agli ambienti ecclesiali di chiesa, come si dice a chi è lontano a chi è indifferente e con tutti ho cercato di instaurare un rapporto veramente di tanta cordialità E gli anni che verranno come saranno? Saranno ancora più belli sicuramente Eccellenza, che cosa significa celebrare 25 anni di ordinazione sacerdotale? Significa ringraziare il Signore perché 25 anni di sacerdozio sono 25 anni di grazia Noi preti facciamo tante cose nel nostro ministero ma nulla di quello che facciamo è opera nostra siamo semplicemente strumenti di grazia e dunque quando siamo all'altare quando siamo in confezionale quando parliamo con le persone le guidiamo nella fede non diamo nulla di nostro siamo semplicemente degli strumenti e dunque dopo 25 anni la prima cosa che viene da dire è grazie al Signore perché non si è ancora stancato di noi e continua a servire la Chiesa attraverso di noi quindi è un canto di lode di ringraziamento ma anche un esame di coscienza per come abbiamo fatto fruttificare la grazia di Dio e qui ognuno di noi risponde per sé Tra l'altro una festa che cade in un momento particolare perché la comunità accoglie la reliquia di San Francesco d'Assisi Beh sì questa è una bella coincidenza perché voluta tra l'altro perché non possiamo e non dobbiamo dimenticare che Don Francesco ha vissuto buona parte di questi suoi 25 anni nella vita sacerdotale francescana e quindi avere la reliquia di San Francesco significa andare alle radici della sua vocazione del suo sacerdozio e quindi è un motivo in più di ringraziamento e di lode al Signore Questa settimana la festa dedicata al Sacro Cuore e allora vediamo i servizi È Gesù che dalla croce è già morto continua a donare e a donarsi offrendo una possibilità di vita e speranza e questo è il senso della festa del Sacro Cuore di Gesù celebrata dall'omonima comunità parrocchiale ad Andria Quest'anno il momento ha un gusto particolare perché è legato al primo anniversario della dedicazione della nuova chiesa e questo dà alla comunità l'opportunità di riflettere sul fatto che sono gli uomini e le donne a essere la dimora di Dio Non solo la chiesa di Pietra e Mattoni sta infatti al cuore di una vita comunitaria ma ogni persona è chiamata a essere il luogo in cui Dio può abitare Certamente la festa dedicata al Sacro Cuore di Gesù è anche un modo per riflettere sulla pace Noi ci giochiamo la nostra appartenenza a Gesù nella storia, nel mondo con tutti i suoi problemi con tutte le sue sfide certamente anche con le sue criticità e oggi la guerra è una criticità un dramma che attraversa tante nazioni del mondo le guerre che sono in prima pagina certamente la guerra in Ucraina la guerra in Terra Santa, in Palestina ma le tante guerre nascoste ecco che si continuano a combattere nelle parti del sud del mondo e che non balzano agli onori della cronaca ma anche le tante violenze che si consumano nelle nostre relazioni umane nei rapporti tra persone nelle stesse nostre famiglie Per i deoniani quale valore ha la festa dedicata al Sacro Cuore di Gesù? È la festa per eccellenza del nostro anno liturgico perché Padre Deon ha deciso di fondare la congregazione del Sacro Cuore di Gesù proprio perché è ispirato dall'evento della trasfissione del Costato di Cristo che è uno dei brani di riferimento della festa del Sacro Cuore Tutta la spiritualità dioniana parte da quell'episodio biblico perché Padre Deono dice che i Padre Deoniani tutto quello che fanno non ci ha lasciato un'opera specifica da poter seguire ci ha lasciato delle linee preferenziali ma non un'opera specifica tutto quello che fate però lo dovete fare col cuore In generale possiamo dire che la festa del Sacro Cuore di Gesù è un inno alla vita una possibilità di speranza che Cristo ci offre Certamente perché nella festa noi celebriamo l'amore di Dio che si dona totalmente nel dono del figlio e proprio sulla croce Gesù ci apre il suo costato il suo scrigno l'amore che viene da dentro quella vita che Lui ci dona totalmente e questa vita noi siamo chiamati a viverla in pienezza rispondendo al progetto al piano d'amore che c'è dietro quindi vigilando sul nostro modo di vivere cioè sulla nostra vita personale perché tante volte si parla di offesa di riparazione nella festa del Sacro Cuore l'offesa che si può fare a Dio in realtà è vivere male la propria vita cioè utilizzare male la propria vita utilizzare male il dono che Lui ci fa e il dono che Lui ci fa è il dono della vita noi dobbiamo utilizzare bene la nostra vita cioè la dobbiamo vivere in pienezza nella logica dell'amore e non possiamo davvero amare nessuno se non vogliamo bene prima noi stessi e allora pace e non guerra amore e non violenza anche nelle relazioni e nelle famiglie certamente anche questo anche questi slogan possiamo dire evergreen in realtà per essere veri per essere credibili devono partire da noi stessi era l'ultima notizia si chiude questa edizione del nostro notiziario grazie per averci seguito buon proseguimento con i programmi di Teledeon grazie per aver guardato il nostro canale